E' fissato per domani alle ore 10 a Palazzo di Città un vertice in cui l'amministrazione comunale ha convocato gli organi di gestione e controllo del depuratore di contrada Ripellino. Sono stati invitati la Girgenti Acque nella qualità di gestore dell'impianto e poi i vari enti, azienda sanitaria provinciale, ARPA, autoidrico e autorità nazionale. Dopo la riunione verrà effettuato un sopralluogo direttamente nella struttura. Tra le prime cose posto sotto osservazione già all'indomani dell'insediamento, il commento dell'assessore alle risorse idriche Carmelo Sambito, c'è stato proprio il funzionamento del depuratore. Abbiamo richiesto la partecipazione di tutti gli organi parti in causa per avere il quadro definitivo della situazione e capire dove andare ad intervenire per sistemare eventuali malfunzionamenti o funzionamenti parziali. Il depuratore, come si ricorderà, ha fatto parlare più volte di sé e l'anno passato si verificarono più episodi di riversamenti nel mare antistante alla foge del fiume Salso che resero necessario l'intervento dell'ufficio circondariale marittimo di Vialibotti, i cui militari con il coordinamento del tenente di vascello Luca Montenovi effettuarono diversi campionamenti che risultarono poi di liquida inquinante. Nei giorni scorsi è poi arrivato il responso di Goletta Verde nella sua indagine annuale sul grado di inquinamento del mare che ha confermato, traendo uguale ormai da diversi anni, come il mare alla foge del fiume Salso sia sopra i limiti di inquinamento.